Mister Scapicchi, partiamo dai complimenti che l'ha appena fatto il tecnico del Napoli, Geppino Marino, al quale riconosce il grande lavoro che sta facendo qui alla Grifo con un'ossatura di una squadra che è rimasta intatta rispetto al campionato dell'anno scorso di Serie 2 nel confronto con il Napoli che invece ha investito tanto in questo mercato. Oggi almeno fino al sessantesimo una grande differenza fra le due squadre non si è vista. Sapevamo che l'inerzia del gioco ce l'avrebbero avuta loro, sapevamo che cercavano di innescare le punte soprattutto con palle piuttosto lunghe sopra la nostra linea difensiva, in settimana avevamo lavorato molto e penso anche bene perché comunque abbiamo concesso niente da questo punto di vista. Poi peccato perché dopo un'ora siamo un po' calati ovviamente per il grande sforzo perché comunque non abbiamo solo contenuto ma abbiamo provato comunque a contraattaccare colpo su colpo, siamo un po' calati e dicevo e quindi poi è venuta fuori la maggior caratura del Napoli che comunque ci ha detto bene tu hai investito molto nel mercato estivo e penso che abbia giocatrici di livello che oltre che tecnicamente soprattutto fisicamente si sono fatte valere negli ultimi minuti. La Grifo non riesce a dare continuità alle vittorie, era già successo dopo la vittoria esterna di Mozzecane poi era arrivata la sconfitta interna con il Como, vittoria sabato scorso con il Torino, sconfitta con il Napoli è solo una questione di sfortuna perché si trovano avversari più forti il sabato dopo oppure magari c'è anche un po' di rilassamento nel post-vittoria? Ma no, io credo che non ci sia un rilassamento e non sia nemmeno questione di fortuna o sfortuna credo che gli episodi poi alla fine di un campionato che ti girano un po' a favore e un po' contro probabilmente si equivarranno quindi comunque avremo quello che meriteremo sul campo penso solo che a fronti delle squadre che sono diverse tra loro la classifica dopo un girone credo che rispecchi quelli che sono i valori ed è per questo che trovi difficoltà diverse ogni sabato La giornata comunque viene archiviata negativamente da questa vittoria ma non così negativamente visti anche i risultati delle altre perché tutte hanno perso quindi laggiù in fondo la classifica è rimasta la stessa e sabato poi c'è questo scontro diretto con il Fiamma-Mosa quindi è ancora tutto in ballo e diciamo che la Grifo ci sta assestando nelle posizioni play out che è già un gran risultato Beh il calendario diceva questo, i risultati erano relativamente insomma prevedibili sulla carta si sono verificati tutti, purtroppo anche il nostro perché oggi prendere anche un punto insomma voleva dire muovere la classifica innanzitutto ma comunque ci avrebbe dato ancora quel morale per quella continuità che accennavi tu prima che a noi magari serviva Peccato perché abbiamo lavorato bene, abbiamo preparato bene e abbiamo secondo me giocato anche una buona partita quindi io non ho granché da rimproverare alle ragazze Per portare a casa dei risultati con queste squadre insomma molto più attrezzate di noi serve ancora qualcosa in più, cercheremo di raggiungerlo ancora in futuro perché ancora abbiamo tutto il giro di ritorno da giocare quindi in fondo nulla è cambiato Siamo lì, adesso attendiamo il recupero di martedì tra Torino e Mozzecane che delinerà in fondo la classifica in maniera definitiva poi quando saremo tutti pari andremo sabato a giocarci insomma a uno scontro diretto a Monza e poi avremo il Pordenone in casa che queste sono due partite per noi molto molto importanti Presidente Roscini, fino al sessantesimo giù di lì ci si credeva di portare a casa un risultato positivo oggi invece poi alla fine è venuta fuori questa grande giocatrice, la giapponese Yamamoto e il Napoli ha portato via i tre punti da Sanzisto però non c'è tutto da recriminare perché come si diceva Coscapicchi è una giornata comunque negativa ma positiva perché anche le altre non hanno vinto quindi è rimasto tutto invariato Sì sì assolutamente, sinceramente sapevamo che il Napoli insomma era una squadra sicuramente superiore alla nostra sia a livello diciamo tecnico facciamo così e anche a livello di aggressività la cosa molto positiva da questo punto di vista che come dicevi tu Andrea fino al sessanta settantesimo abbiamo retto e abbiamo retto controbattendo all'aggressività loro con altrettanto aggressività e questo secondo me se dobbiamo analizzare la parte è la cosa più importante che è venuta fuori perché poi queste partite serviranno a noi per poter tirare fuori quel qualcosa in più nelle partite che contano e che sono insomma gli sconti diretti come il sabato scorso con il Torino senza dubbio se vuoi essere sincera ci credevo nel senso che pur soffrendo potevamo provare insomma a raccogliere almeno un punticino diciamo così però così non è andata ma adesso ci aspetta Monza Nell'attesa di Monza parliamo di questa bellissima iniziativa che ha visto protagonista la Grifo con il Perugia Calcio di questo calendario che sarà in indicola dal lunedì 14 gennaio in abbinamento con il giornale dell'Umbria la Grifo insomma dimostra di avere sensibilità non solo per l'aspetto calcistico ma anche tutto quello che gira intorno nella speranza sempre poi non so quanto possibile o remota che prima o poi qualcuno in questa città si svegli e comincia a sostenere anche la sua attività Noi stiamo facendo di tutto per farci conoscere stiamo collaborando molto con il Perugia Calcio ringrazio moltissimo anche il Presidente, tutti i collaboratori e i giocatori che hanno dato la possibilità di fare questo calendario perché per noi è comunque molta visibilità è molto il farci conoscere e far capire che ci siamo anche noi questa è la bellezza siamo comunque in Serie A, giriamo tutti a Italia quindi è normale che le difficoltà sono immense e quindi con questi calendari, con queste cose facciamo in modo di farci conoscere da un lato e che la gente insomma si avvicini a noi e ci dia il loro contributo Ricordiamo quindi la lunedì 14 gennaio un abbinamento con il giornale Lumbria e il costo di? Di 4 euro poi il giornale Quindi a tutti gli amici sportivi di Perugia e chiaramente gli appassionati di calcio femminile lo invito ad acquistare questo calendario da parte mia e da tutta la società della Grifo qui da San Sisto è tutto alla prossima gara casalinga della Grifo Geppino Marino, vittoria importante per il Napoli sostanzialmente diciamo meritata perché poi alla fine dopo un primo tempo abbastanza equilibrato il Napoli nel secondo tempo è venuto fuori ha trovato un bellissimo gol con la giapponese Yamamoto poi questo rigore ma la supremazia napoletana nel secondo tempo è stata evidente Sì, una vittoria sofferta perché noi ci aspettavamo anche dopo gli ultimi risultati utili del Perugia di affrontare una squadra molto ben preparata che stava bene in campo e che era difficile da poter battere questo è un campo difficile io sono contento della prestazione del secondo tempo perché il primo tempo siamo stati un pochino timorosi forse avevamo capito l'importanza della partita e soprattutto della forza della squadra avversaria siamo stati un po' timorosi ma il secondo tempo mi fa piacere che le ragazze siano uscite fuori Quali prospettive ha la sua squadra? Vedendola giocare ci sono prospettive importanti la classifica comincia ad essere buona l'obiettivo è quello di attestarsi dietro alle grandi di questo campionato? Noi cerchiamo di divertirci e di fare il massimo partita dopo partita poi il valore di una squadra si vede a fine anno dai punti e dalla posizione in classifica quindi cercheremo ogni domenica di dare il massimo in base alle nostre possibilità e di cercare di fare più risultati positivi possibili La differenza tra il Perugia e il Napoli non l'ha fatta solo il campo forse l'ha fatta anche un po' la campagna acquisti quest'estate la società napoletana perché è riuscita comunque ad investire molto di più di quanto ha fatto la Grifo perché parliamo comunque di squadre neopromosse Sì ma sicuramente è inutile che ci giriamo intorno per quanto noi allenatori possiamo dare delle potenzialità in più agli atleti ma se non è la materia prima a disposizione determinati risultati non si possono fare però io mi sono complimentato prima con il mister Scavicchi perché per una squadra neopromossa lasciare la stessa ossatura e comunque mettere in difficoltà tante squadre non sono la nostra vuol dire che c'è un buon lavoro c'è un buon organico c'è un buono spogliatoio le ragazze si sacrificano e soprattutto credono nel progetto quindi effettivamente il valore aggiunto che c'è stato dalla campagna acquisti ci ha dato un pochino più di tranquillità quest'anno Adesso c'è l'impegno infrasettimanale il recupero se non sbaglio a Verona quindi l'ennesima occasione per dare più punti a questa classifica anche se Verona è qualcosa di diverso rispetto a Perugia Sì, ci piacerebbe fare uno sgambetto a quelle quattro squadre che sono lì su perché i valori che ci sono nel campionato si sanno però la determinazione, la convinzione e la volontà possono cercare di stravolgere le carte in tavola quindi faremo il possibile per mettere uno sgambetto grazie a tutti Grazie a tutti